Allora, l'obiettivo di questa lezione è quello di riprendere le ultime parti delle lezioni pre-registrate che riguardano la costruzione di grafici, andando a vedere gli ultimi tipi di relazioni. Iniziamo con le relazioni che fanno vedere quello che è l'andamento nel tempo di una certa grandezza. L'obiettivo di questo tipo di visualizzazioni è sostanzialmente andare a mostrare come una certa grandezza può cambiare, in generale nel tempo, aumentare, decrescere, fluttuare, o in generale qual è il trend, che potrebbe non essere una crescita netta ma potrebbe essere un trend in crescita o vagamente in crescita o in decrescita. Quindi, insomma, sono variazioni leggere su che cosa uno vuole andare a comunicare. La convenzione che normalmente si adotta in questo tipo di grafici è il tempo che scorre da sinistra a destra, in cui sostanzialmente vedo gli istanti precedenti a sinistra e quelli successivi a destra. Oltre alle linee e ai punti che sono, insomma, il modo normalmente utilizzato per andare a rappresentare questo tipo di relazioni, si possono utilizzare anche le barre. Le barre hanno un grosso limite che è quello di andare a focalizzare l'attenzione su specifici punti e quindi rendono meno visibile quello che è l'andamento generale e quindi focalizzano l'attenzione su alcuni dettagli piuttosto che sulla forma generale. Quindi, a seconda di qual è il nostro obiettivo, possiamo andare a scegliere l'uno piuttosto che l'altro. I diagrammi a linea sono quelli più diffusi. Questo è un grafico con andamento temporale. C'è il debito pubblico italiano in funzione del PIL dal 1995 al 2018. La convenzione del tempo è rispettata. La scala ovviamente non è una scala che parte da zero. Abbiamo già visto che in questo caso la codifica è fatta del punto rispetto all'asse e quindi non è necessario avere la scala che parte da zero. Questo ci permette sostanzialmente di andare a, se mi permette del termine, sfruttare al massimo la dinamica dei dati. Quindi faccio in modo che la variazione massima riempia tutto il nostro grafico. Lo stesso tipo di grafico lo possiamo andare a rappresentare in questo modo. Ovviamente, qual è la differenza? La differenza è che qui io vedo le singole barre e soprattutto, visto che le barre non possono essere tagliate per evitare un fattore di menzogna, è chiaro che vedo anche meno l'ampiezza della variazione e quindi riesco ad apprezzarla molto di meno. Altro tipo di grafico decisamente molto meno preciso è quello che si chiama uno stream graph, in cui vedo di nuovo l'andamento nel tempo in orizzontale e sull'asse verticale l'ampiezza di qualche grandezza, in cui abbiamo tante grandezze che possono essere sommate tra di loro. La correlazione è, se vogliamo, il caso più generale dell'andamento nel tempo, perché l'andamento nel tempo provvede alla correlazione tra una grandezza e il tempo e qui abbiamo due grandezze invece generali. I punti sono il classico modo di andare a mostrare la relazione tra due grandezze. Quindi per un certo punto, per un certo istante, per un certo soggetto andiamo a misurare due diverse quantità e le mettiamo in relazione. È un piano cartesiano, abbiamo imparato a leggerlo dalle scuole elementari con riferimento agli assi. In generale, attenzione a come gestiamo i punti, perché è bene che i punti siano abbastanza grandi da essere distinguibili, diversi, se abbiamo, abbastanza diversi, se abbiamo diversi gruppi di dati, e ovviamente devo andare a trovare un bilanciamento ragionevole tra le dimensioni del grafico e le dimensioni dei punti, in modo che i punti non si oscurrano vicenda e non oscurrano la restante parte del grafico, che siano identificabili, distinguibili, eccetera. In generale, i diagrammi in cui ho a disposizione due grandezze e i punti che mi rappresentano le coordinate di alcuni soggetti che vado a misurare, vengono chiamati scatter plot, ok? Diagrammi a sparsi, a spargimento, ok? dove, per l'appunto, i punti sono sparsi all'interno del nostro piano cartesiano. Un aspetto che può influenzare questo tipo di grafici è quello che si chiama l'overplotting, ovvero il fenomeno per cui ho più punti che si sovrappongono l'uno con l'altro. E ci sono diverse possibili soluzioni. Ora, questo è un esempio di overplotting, dove ho sostanzialmente l'income, quindi il guadagno, gli stipendi, in funzione del tipo di formazione. È chiaro che se io li rappresento in questo modo, molti punti sono sovrapporsi l'uno con l'altro. Quindi, prima soluzione, rimpicciolisco i punti in modo che siano più facilmente separati, ma non è detto. Un'altra soluzione è quello di fare il plotting non del punto pieno, ma solamente del contorno. Oppure, altra soluzione, uso dei punti che hanno un riempimento trasparente. In questo caso vedo aree più chiare dove ci sono pochi punti, aree più scure dove ce ne sono di più. E questa è una buona strategia se ho tanti punti, perché comunque mi dà una visualizzazione di quanta della densità dei punti in una certa area. Altra strategia è quella che si chiama jittering, ovvero vado a aggiungere ai punti un po' di rumore. Ovvero, invece ad esempio di allinearli esattamente su una verticale, vado ad aggiungere in maniera assolutamente casuale, quindi veramente il codice utilizza un numero casuale, che viene generato e viene sommato all'asse orizzontale. In questo modo i punti sono spostati un po' a sinistra o a destra rispetto alla verticale a cui fanno riferimento, e quindi riesco tendenzialmente a vederli praticamente tutti. Un aspetto tipico di questo tipo di diagramma è il fatto che, essendo per l'appunto una deviazione casuale, prima di ottenere qualcosa che mi soddisfi, magari devo andare a generare più volte lo stesso diagramma generando dei muri casuali in maniera diversa. e quindi, insomma, per l'appunto essendoci la componente casuale non è detto che sia esattamente ripetibile. Oltre ai semplici punti, a volte può essere utile andare a utilizzare punti e linee e quando uso sia i punti che le linee posso andare sostanzialmente a misurare sia la posizione che utilizzare la codifica che mi è data dall'inclinazione del segmento per capire l'entità della variazione da un punto all'altro. Se ci pensate, le linee di regressione sono utili perché ci danno una percezione complessiva dell'andamento di questi dati. può crescere tanto, poco essere piatto e l'altro aspetto che ci viene dato è di quanto i dati siano sparsi attorno a questa linea di regressione. Altra tecnica per andare a rappresentare una correlazione è quella di utilizzare delle barre divergenti. L'abbiamo già vista quando abbiamo più distribuzioni. Ecco, lo posso utilizzare anche quando non ho una distribuzione ma ho semplicemente un'entità, un oggetto a quell'oggetto associo due misure e le due misure sostanzialmente vengono riportate in maniera assolutamente separata. Ovviamente questo funziona se abbiamo una coppia di dati e se non sono tanti. se sono tantissimi non riesco a gestire una visualizzazione ragionevole sono troppo densi e quindi poco leggibili. Abbiamo parlato anche spesso di categorie, di coppie, eccetera molto spesso è necessario decidere come andare a visualizzare e codificare quelle che sono delle categorie grande, medio, piccolo, micro una delle possibili codifiche è in perposizione ogni categoria sta in una posizione diversa oppure posso andare a combinare su più categorie sia la posizione che la tinta posso andare anche a considerare la dimensione ok? i punti possono essere più o meno grandi e rappresentare certe categorie sono tutte possibili codifiche di diverse categorie un'altra possibile codifica è quella che utilizza i texture del di riempimento delle aree tendenzialmente a meno che abbiate forti motivi per utilizzare questo è un tipo di codifica fortemente sconsigliato ok? andava molto forte negli anni 60 e 70 quando era difficile avere delle stampe decenti a colori o anche con toni di grigio oggi anche una stampa in bianco e nero riesce a rendere diversi toni di grigio in maniera decisamente più facile da leggere meno faticosa rispetto a quelli che sono i pattern di riempimento una tecnica che viene spesso utilizzata nell'andare a rappresentare valori che siano non categorici ma di cui non interessi molto la precisione è quella di fare l'operazione che si chiama di discretizzazione o di quantizzazione ovvero io ho un valore numerico e invece di codificarlo in maniera precisa ad esempio usando la lunghezza della barra piuttosto che una posizione o un'area vado a considerare quelle che sono non i valori precisi ma lo suddiviso nella serie di intervalli e quindi vado ad assegnare a ciascun intervallo una codifica ad esempio il colore ok? è quello che viene utilizzato più spesso questo consente ad esempio di avere delle visualizzazioni tipo heatmap questo è un esempio di heatmap dove ho una dimensione che è quella temporale un'altra dimensione che è quella geografica questi sono gli stati e la terza dimensione che è sostanzialmente il numero di infezioni ok? quindi il numero di infezioni avrei potuto rappresentarlo come una terza dimensione all'interno del mio del mio diagramma però abbiamo detto che le dimensioni sono difficili da visualizzare quindi l'idea qual è? lo trasformo in un qualcosa che è un colore il colore ovviamente non riesco a rappresentarlo in maniera precisa qui ho sostanzialmente lo stesso colore che è assegnato a un intervallo di valori e ottengo questo tipo di visualizzazione è di impatto ed è molto sintetico sostanzialmente ci permette di vedere come colori elevati tipo il giallo e il rosso tendono a diventare molto meno frequenti dopo l'introduzione del vaccino il grosso problema di questo tipo di codifica è che senza questa scusate senza questa barra di riferimento questa leggenda in fondo è difficile capire cos'è più alto e cos'è più basso non c'è un ordinamento univoco di colori e quindi è difficile fare fare qualcosa che sia percepibile in maniera intuitiva ok perché il rosso è meglio del giallo del blu del verde non c'è un modo univoco di leggerlo a meno che di fare riferimento a questo altro aspetto le codifiche non sono uniformi nel senso che vedete che da 2000 a 4000 il colore è sempre lo stesso rosso e quindi mentre invece tra 0 e 500 cambiano due o tre colori quindi è una codifica un po' arbitraria questa per questo motivo in generale questo tipo di codifica è da evitare ed è da preferire un tipo di visualizzazione che usi non il colore ma piuttosto l'intensità e la saturazione allora il rosso intuitivamente è qualcosa di negativo sì caldo pericoloso va bene per cui più è rosso più è pericoloso il problema è che gli altri colori non sono facilmente comprensibili per cui perché l'azzurro è peggio del verde e non viceversa e quindi sì a volte alcuni colori sono significativi gli altri però sono un po' a caso quindi il fatto che dove vedo rosso sia effettivamente alto può essere utile il problema sono tutti gli altri colori e soprattutto l'ordinamento generale per cui non è campata in aria la scelta del rosso sicuramente va in questa direzione che è una percezione abbastanza comune il resto dei colori invece è un po' meno fattibile per cui in generale se utilizzo una codifica di questo tipo uniforme allora innanzitutto variazioni analoghe di luminosità mi portano a mi codificano variazioni analoghe di di casi e se osservate questo e quello precedente vedete che ci sono alcune strisce qua che prima non erano molto evidenti perché probabilmente erano sparse nella zona meno meno codificate in maniera diversa e quindi non era evidente che fossero tutti molto elevati vi faccio un altro esempio un caso molto comune di uso di questo tipo di quantificazione è quando vado a utilizzare i colori per rappresentare delle temperature che si chiamano heat map proprio perché sono stati utilizzati molto spesso per andare a rappresentare colori questo è un'immagine di un mese fa circa quindi parliamo del 15 febbraio delle temperature negli Stati Uniti ora vedete che ci sono una serie di aree allora il rosso vuol dire caldo va benissimo ok quindi la codifica è quella e poi scende verso i colori vanno verso il verde il scusate il giallo il verde il blu poi diventa azzurro e poi viola tra l'altro il viola lo ritrovo anche qua su in cima quando fa molto caldo quindi non è univoca un altro aspetto che qui vediamo molto bene e che invece non era evidente prima è che io qui ho una variazione ad esempio da meno cercare un qualcosa tra meno 5 e meno 11 che è molto intensa quindi passo da un viola a un grigio e passo da e quindi sembra che qua ci sia un salto enorme cosa che invece non è così evidente cioè se guardiamo se andiamo a leggere i numeri e qui in cui tutta quest'area viola ho dei valori che vanno a meno 30 qua su in confine con il Canada a meno 14 sembrano esattamente lo stesso colore quindi quando ho la transizione da un colore da una tinta all'altra percepisco una differenza molto più netta rispetto a quella che io avrei andando a utilizzare una gradazione che usa semplicemente la luminosità e la e la saturazione vi faccio vedere un'altra variante esattamente degli stessi dati che è questa allora qui usiamo due colori quindi non uno proprio perché in questo modo è più evidente i due estremi quindi il freddo azzurro e il rosso caldo vedete però che la percezione delle temperature qui è molto più graduale e anche qui quando passo da di 0 ai 32 la vision Fahrenheit la gradazione anche qui vedete che le variazioni che vedo qua in quest'area qui cosa c'è Mississippi TNC rispetto a quelle che avevo qua quindi siamo qui sempre sono molto più graduali quindi non vado a falsare la percezione di chi osserva il grafico con aspetti percettivi che in realtà non corrispondono a variazioni nei dati quindi qui vediamo una transizione tutto sommato un po' più dolce dal molto caldo al molto freddo per cui in generale le cosiddette palette arcobaleno sono un qualcosa che è molto deleterio in termini di accuratezza della percezione quindi non c'è un ordinamento univoco a meno che abbia una scala a fianco molto dettagliata vado a percepire delle differenze molto spesso più forti più significative rispetto a quelle che ci sono nella realtà perché ho una variazione da un colore all'altro e la variazione tra due colori normalmente viene percepita in maniera molto molto forte usando strategie di questo tipo ho una percezione molto più corretta e più accurata di quelli che sono i valori ok quindi questa è l'idea e anche qui uso la percezione diciamo così comune di dire che il blu e il freddo e il rosso e il caldo quindi questa associazione così inconscia o comune c'è e resta ok però con questo esempio di aver chiarito un po' cosa si intende e quali sono gli aspetti negativi di questo tipo di paletti di questo tipo di codifica gli altri aspetti importanti quindi oltre alla codifica sono tutti gli elementi di supporto che ci sono in un grafico, gli assi, l'area del grafico, le etichette, le leggende, varie linee di riferimento, i grafici messi assieme. Per quanto riguarda i grafici, vorrei fare qualche piccola considerazione sul caso in cui io abbia una correlazione di tre o più variabili. Domanda. Allora, nella seconda cartina, scusate, torno indietro allora, nella seconda cartina si vedono meno differenziazioni? Allora, sì, nel senso che la variazione di temperatura che io percepisco tra qui e qui è tutto sommato limitata, ma è limitata perché effettivamente i valori sono quelli. La variazione che io vado a percepire qui, tra 8 e meno 5, è intensissima perché attraverso sostanzialmente due colori. Allora, il punto è che io vedo dei salti significativi quando non ci sono. attenzione che poi i numeri che vedete qua sono un po' diversi rispetto a quelli celsius, perché 86, 82 sono 28 gradi. e i 16, scusate, i 60 sono 16 gradi. Quindi rispetto ai gradi celsius vediamo dei numeri molto più ampi, ma noi riusciamo a percepire probabilmente una differenza di un grado, due gradi, oltre, che vuol dire una differenza molto molto più ampia qui in termini di Fahrenheit, almeno il doppio. Quindi l'idea è che qui io vedo dei salti enormi che qui non vedo perché qui la rappresentazione è più corretta. quindi ho una piccola variazione, che è giusto, ed è quella che vedo, mentre invece in altro caso vedo delle differenze enormi dove in realtà non ci sono. Oppure, scusatemi, qui ci sono delle differenze significative, da qui a qui, sono 10 punti, da meno 30 a meno 20, che è molto più forti rispetto alla variazione che ho, ad esempio, tra il meno 14 e il meno 5, o tra 9 e meno 5, che è di nuovo la stessa. Sembrano due cose completamente diverse in realtà, sono esattamente le stesse distanze, e io le percepisco come molto diverse. Mentre invece qui, la differenza che ho tra il punto qua su in alto e il colore qua la percepisco, quindi c'è una certa differenza, ma vedo che è grosso modo equivalente alla differenza che ci può essere tra questi due punti qua. Oppure tra questo punto e un punto che sta un po' più in qua. Quindi rispecchia, la percezione delle differenze rispecchia di più quella che è la differenza effettiva tra le temperature effettive, tra le temperature vere. Ok? Allora, un esempio di correlazione tra tre grandezze è quella che vediamo qua, dove abbiamo il tempo, lo stato e la terza variabile è il colore che è il numero di casi. Ovviamente io posso avere altri modi di rappresentare gruppi di tre o più variabili. Uno dei modi utilizzato con una certa frequenza è quello di utilizzare la doppia scala. Quindi ho il tempo che è comune e poi ho sulla scala di sinistra una grandezza e su un'altra scala un'altra grandezza. Ora, la domanda è secondo voi GDP è a sinistra o a destra? Qual è il delle due scale? Potete anche chiaro indovinare. Allora, GDP dite che è a sinistra. sì, in effetti il colore verde dei punti è legato al colore verde della scala e l'arancione di Gini è legato alla scala. Quindi ho questa codifica che più o meno mi dà un qualche modo di andare a codificarlo. quindi c'è un po' di difficoltà percettiva nel capire a quale scala appartiene ogni valore. Ok? E quindi è un po' un po' confonde. Un altro aspetto diciamo così importante è legato al fatto che ovviamente queste due scale io le posso andare a scegliere in maniera assolutamente arbitraria. Ok? Quindi in questo caso ho un'intersezione tra le linee qua ma se scelgo un altro un'altra coppia di scale non c'è nessuna intersezione. Qui l'ho scelta in modo che Gini stia sotto rispetto al GDP ma potrei scegliere in maniera che Gini stia sopra al GDP o che si incrociano in un altro punto. Ok? Quindi è un qualcosa che insomma mi mi permette di andare a dimostrare tutto e niente. Esattamente nell'altra scala e questa scala io vedo Gini che sembra crollato. in realtà è passato da un poco più di 60 a 55 quindi è sceso di 5 punti. Il GDP è passato da 500 a 2000 quindi è aumentato di 4 volte. Ok? Quindi un 10% di calo di questo e un 400% di aumento del GDP. Ok? Tanto per darvi un'idea. In generale tendenzialmente le doppie scale si danno danno un grosso problema. Allora adesso volevo aspettate un attimo che vi cerco un sito Allora un attimo che vi condivido l'altro schermo Eccolo qua Allora il sito è questo qui ve lo metto in chat è una raccolta semiseria di possibili correlazioni dove vado a mettere due grandezze con due scale diverse per cui qui ho le spese degli Stati Uniti in scienza spazio e tecnologia e qui ho anche l'altro valore che rappresento è il numero di suicidi per autoimpiccamento strangolamento e soffocamento quindi la tecnologia sembra che faccia male il numero di persone che sono affogate cadendo in una piscina rispetto al numero di film in cui ha recitato Nicolas Cage il consumo pro capite di formaggio con il numero di persone che sono morte strozzate dalle proprie lenzuola i divorzi nel Maine contro il consumo di margarina l'età di Miss America contro gli omicidi fatti con vapore e oggetti caldi esattamente sostanzialmente basta che due grafici abbiano la stessa forma ma molto vagamente perché poi vedete che le due scale sono scelte in maniera molto attenta quindi ad esempio da 3,96 4,95 da 2,8 quindi devo trovare due serie che si assomiglino vagamente e il gioco è fatto c'è anche una bella correlazione adesso non so se è qua tra il consumo di cioccolato e il numero di premi Nobel di una nazione e sono convinto sia reale infatti io mangio tantissimo cioccolato ma non ho vinto ancora il premio Nobel per cui aspetto di vincere la breve visto la quantità di cioccolato che mangio quindi dato una doppia scala allora non è detto che non esiste una correlazione attenzione il punto è che quando ho una doppia scala io posso fare qualunque posso far sembrare correlate oppure che abbiano un certo tipo di legame due serie qualunque per cui in generale ecco diciamo così è un po' una pessima idea andare a utilizzare delle doppie scale un modo un modo un po' più corretto se vogliamo onesto di andare a rappresentare i dati è quello di andare a utilizzare grafici multipli ok qui ho due grafici in ciascuno dei grafici io faccio in modo che i punti vadano proprio dal minimo al massimo quindi dal punto più basso al punto più alto faccio in modo che i punti riempano i grafici quindi questa è una scelta diciamo così normale e automatica dopodiché vado a vedere i dati e poi posso andare a utilizzare diversi tipi di di correlazioni questi dati qua riguardano per l'appunto il prodotto interno lordo e l'indice di disuguaglianza di Gini in vari anni in Brasile e qui vedete che colorati sono i periodi in cui sono stati attivi diversi presidenti ed è sostanzialmente lo stesso tipo di dati che è rappresentato in questo grafico che avevamo visto forse in una delle prime lezioni con un po' di grafici di esempio l'utilizzo di più grafici contemporaneamente è in generale un'ottima idea se ho tante variabili da mostrare è una tecnica che si chiama piccoli multipli oppure trellis trellis è sostanzialmente traliccio quando le cose intrecciate o lattice oppure griglia sono vari modi diversi di chiamare questo modo di arrangiare grafici di tante grandezze diverse in piccoli grafici separati e ovviamente allineati altro esempio che abbiamo qua è disoccupazione totale e nei giovani e a lungo termine vabbè qui è un po' vecchiotto quindi dal 2004 al 2015 in vari paesi europei dove i grafici sono allineati nel senso che hanno tutti la stessa base e lo stesso asse verticale hanno tutti ovviamente lo stesso intervallo di tempo e poi sostanzialmente abbiamo un modo di andare a vedere e non ci interessano i valori assoluti ci interessano relativamente poco ci interessa molto di più vedere l'andamento per cui che so vediamo ultimo a destra la Germania che ha avuto un calo netto la disoccupazione l'Italia ha avuto sostanzialmente una crescita è ovvio che Grecia Spagna sono andati molto peggio in questo intervallo nel senso che la crescita è stata molto più intensa però di nuovo ci interessa l'aspetto generale cresce cala sale scende eccetera piuttosto che il valore preciso d'altronde io non posso avere per tutte le nazioni i valori precisi di ogni singolo anno anche perché avrei una quantità di dati troppo di dettaglio e difficili da percepire diciamo in maniera veloce se voglio i dati di dettaglio vado a prendermi una tabella con tutti i dati se invece il mio obiettivo è dare modo a chi osserva il grafico di avere una valutazione veloce ed insieme ecco che questa tecnica funziona abbastanza bene ovviamente funziona se io mantengo le stesse scale su tutti i grafici perché se vado a modificare le scale da un grafico all'altro siamo di nuovo al problema di prima ok è poco significativo altra tecnica che viene utilizzata talvolta è quella di scala logaritmica qual è il vantaggio della scala logaritmica è che sostanzialmente mi permette di allora lo posso utilizzare per vari motivi primo motivo si utilizza una scala lineare è quella che vedete sopra sono il numero di casi covid a più o meno in questo periodo dell'anno scorso vedete che Cina e Italia sono molto più alti e abbiamo una quantità incredibile di paesi molto molto vicini allo zero eravamo all'inizio della pandemia ok qual è lo svantaggio della scala lineare è che sostanzialmente se ho tanti valori bassi e pochi valori molto alti i valori molto alti sono molto sparsi tra di loro domanda nel grafico della disoccupazione allora eccoci nel grafico della disoccupazione i paesi sono ordinati secondo le variazioni le variazioni allora li posso ordinare in vari modi in questo caso sono ordinati in base non alla variazione ma al valore più recente quindi al valore finale ok quindi attualmente la disoccupazione è più alta in Grecia è più bassa in Germania il confronto viene fatto perché una volta che io seleziono un paese lo vedo selezionato nelle tre serie diverse un'altra strategia un'altra strategia sicuramente è quella che suggerisci ovvero di fare di mantenere lo stesso ordinamento in tutte e tre serie ok per cui l'idea è che ad esempio vediamo come nella disoccupazione a lungo termine l'Italia si comporta più o meno come la disoccupazione generale ok e qui tra quelli più alti se andiamo a vedere che so la Germania che nella disoccupazione generale è la prima nella disoccupazione a lungo termine è qua ok quindi la Germania nella disoccupazione a lungo termine è molto più questo tendenzialmente è un grafico interattivo sì è uno screenshot di un grafico interattivo lo posso fissare avendo selezionato un paese per andare a vedere come varia la sua posizione però ovviamente ci possono essere diverse strategie dipende qual è il mio obiettivo e che cosa voglio andare a mostrare quindi se ho pochi valori molto alti questi sono sparsi e quelli piccoli sono tutti ammucchiati tra di loro se utilizzo una scala logaritmica che è quella che vediamo qua sotto vediamo che ecco anche i valori alti iniziano ad essere vicini tra di loro ok anche perché uguali distanze vuol dire uguali variazioni percentuali ok quindi sostanzialmente la distanza che c'è tra Cina e Italia è simile alla distanza che c'è tra la Spagna e la Germania ok quindi il rapporto tra i casi è analogo quindi un motivo per utilizzare la scala logaritmica è che espando i valori piccoli e compatto i valori grandi se ci pensate come è fatta la curva logaritmica è abbastanza intuitivo un altro effetto un altro effetto collaterale interessante rispetto a l'utilizzo delle scale logaritmiche è che stesse variazioni percentuali vengono rappresentate con stesse distanze quindi se prendiamo ad esempio qui tre valori ABC che vanno da 100 180 e 324 ovvero incrementano di 80 e incrementano di 144 vedete che i valori assoluti dell'incremento sono diversi e quindi questo segmento pende molto di più dell'altro però in realtà è un incremento dell'80% in entrambi i casi quindi se mi interessa la variazione assoluta il primo grafico è decisamente più indicato se invece mi voglio concentrare su quella che è la variazione percentuale sicuramente allora la versione logaritmica è molto più utile di nuovo dipende dal messaggio che voglio dare io vi sto facendo una panoramica molto molto ampia di possibili tecniche e varianti poi la scelta della specifica tecnica della variante o ulteriori modifiche sta a voi nel momento in cui dovete andare a costruire il grafico altro tipo di grafico sempre informazioni da circa un anno fa su su covid o in ascissa i giorni qui li ha fatti dal centesimo caso per evitare di avere un periodo troppo lungo e in ordinata abbiamo il numero di casi su scala logaritmica il vantaggio di utilizzare la scala logaritmica è che su una retta questa retta del 33% vuol dire è che chi sostanzialmente si allinea su quella retta chi ha quella pendenza ha un incremento giornaliero del 33% di casi ok qui la velocità di diffusione calcolata come incremento percentuale ci permette di andare a valutare appunto quanto velocemente si diffonde indipendentemente dal numero di casi effettivi perché è ovvio che un 33% su 10.000 e un 33% su 1.000 è un po' diverso ok e 10 volte più piccolo invece in questo caso vedo che si stanno muovendo tutti in grosso modo su quella velocità di diffusione ovviamente dietro questo tipo di grafico ci sono stati un sacco di ragionamenti per andare a capire qual era la visualizzazione più corretta ok non pensate di avere l'intuizione fare il grafico e aver risolto il problema molto spesso bisogna provare tante varianti e vedere quello che funziona meglio area del grafico di tendenzialmente dobbiamo cercare una rappresentazione una proporzione tra larghezza e altezza che sia ragionevole come linea guida generale gli scatter plot soprattutto se rappresentano due grandezze che sono tra di loro omogenee sono tendenzialmente quadrati in modo da dare l'idea che non c'è una deformazione dei valori quando vado a mettere le griglie che sono utili per poter leggere meglio i punti devo ricordarmi che devono essere tenui ok prima rappresento i grafici e poi fornisco le griglie come strumento aggiuntivo se le griglie sono più nere più scure più pesanti rispetto ai dati a questo punto sto rappresentando delle griglie e ho i dati come contorno quindi è importante a fare questo tipo di valutazione qualche altra considerazione quando dobbiamo andare a rappresentare quelli che sono dei dashboard ovvero delle dei meccanismi che mi permettono di andare a rappresentare tanti dati contemporanei che mi danno diversi punti di vista su un fenomeno l'idea è che i dashboard dovrebbero essere sintetici compatti e mi permettano di vedere i dati in maniera molto sintetica per cui per cui in generale è importante ricordarsi di dare del contesto quindi abbiamo già visto che questo tipo di metafora dell'indicatore analogico ha dei grossi limiti ma in generale se io vado semplicemente a dare un numero e la lancetta che si muove non do molte informazioni molto utili avere dei riferimenti quindi devo dare del contesto per poter interpretare i dati altrimenti faccio fatica a capire al volo di cosa si tratta devo utilizzare il giusto livello di dettaglio quindi non troppo ma neanche troppo poco ad esempio devo andare a fornire in cifre decimali se queste sono utili se vedo metto sempre virgola zero sto assolutamente dando delle informazioni che non sono non sono necessarie ok altro aspetto se qui mi interessa andare a mostrare ad esempio la variazione più che il valore assoluto il valore assoluto così è sbagliato abbiamo già visto perché c'è la barra tagliata se mi interessa andare a vedere la variazione allora tendenzialmente mostro la variazione non il valore assoluto evito alla gente di andare a fare l'operazione di differenza e do direttamente il valore un altro aspetto importante è cercare di evitare quelle che sono le decorazioni quello che si chiama il design scheomorfico ovvero che imita quelli che sono gli oggetti reali fisici quindi il flag che assomiglia a un interruttore i background non omogenei ok o i gradienti di colore di nuovo il giochino l'avete già visto sulla scacchiera A e B se li guardate vi sembrano due livelli di grigi diversi in realtà sono esattamente lo stesso livello di grigio cosa cambia il contesto per quanto riguarda i diagrammi posso anche evitare di utilizzare troppi colori e ogni volta che io metto una variazione di qualcosa di posizione di colore sto trasmettendo dell'informazione se io la variazione di colore la metto a caso decorativa e sostanzialmente sto trasmettendo del rumore e quindi complico la vita a chi sta cercando di leggere il diagramma diagrammi 3D qualche considerazione la terza dimensione può essere utilizzata per andare a codificare meglio i dati perché ho tre informazioni ad esempio tre informazioni quindi ho bisogno di tre dimensioni cosa faccio molto spesso posso utilizzare una sonometria per andare a rappresentare i dati è quello che si fa alcune volte il problema è che utilizzando la sonometria o altri tipi di proiezioni alcuni dati non li vedo un conto è se io voglio andare a visualizzare per una visualizzazione scientifica una superficie e la mostro in un sistema interattivo in cui posso andare a ruotare vedere come è mostrata la quindi vedere da diversi punti di vista la mia la mia superficie è un conto se io ho un grafico che ragionevolmente non è interattivo magari è stampato statico usare una prospettiva scusate una sonometria non funziona granché peggio ma molto peggio è utilizzare non una sonometria come in questo caso ma una prospettiva perché la prospettiva altera molto le dimensioni di cosa sta dietro tra virgolette e quindi mi dà una percezione molto molto alterata quindi tendo a vedere le cose in maniera molto diverse quindi invece di utilizzare una soluzione di questo tipo in cui ho una terza dimensione uso ad esempio una tecnica che è quella dei piccoli multipli è ovvio che posso decidere di utilizzare in un modo o nell'altro ok posso raggruppare qui per aree quindi ricerca vendita gestione contabilità e avere sull'asse verticale il tipo di spese se mi interessa per ogni area andare a confrontare il tipo di spese e mi interessa di meno andare a vedere ad esempio le stesse spese in diverse aree se invece mi interessa di più andare a confrontare lo stesso tipo di spesa per diverse aree quello che posso fare è raggruppare non per le aree ma bensì raggruppare per il tipo di spese e quindi avere un grafico per altro un grafico per software un grafico per consumabili un grafico per attrezzature un grafico per paghe in quel caso vado per lo stesso tipo di spesa lo stesso capitolo di spesa confrontare diverse aree quindi questo è un modo oppure posso raggruppare in maniera diversa di nuovo dipende dal tipo di messaggio che voglio andare a dare quindi se questo tipo di codifica usando la terza dimensione ha un qualche senso anche se ha grossi limiti ed è preferibile utilizzare questa soluzione a volte ci sono dei grafici che sono in tre dimensioni per motivi puramente decorativi in questo caso vedete che non riesco a percepire bene le differenze che ci sono qua perché la prospettiva che viene utilizzata mi altera la percezione e quindi in generale questo tipo di grafico è da evitare assolutamente quello che posso fare è andare a utilizzare una rappresentazione in due dimensioni in cui ho i dati senza distinzione senza distrazioni aggiuntive quali la terza dimensione ok diciamo che con questo abbiamo un po' ricapitolato la parte generale di costruzione di grafici tutte queste conoscenze vi saranno utili perché poi nel laboratorio della prossima settimana dovrete andare a fare un'analisi di grafici che vengono dati e eventualmente provare a riprogettarli in maniera migliore o più efficace evitando degli errori lo strumento che utilizzerete sarà Excel e quindi a questo punto facciamo una breve pausa diciamo un quarto d'ora dopodiché proviamo a vedere assieme un piccolo esempio di visualizzazione utilizzando Excel e cercando di capire quali sono eventualmente i problemi quindi 15 minuti di pausa sono quasi le 5.10 diciamo alle 5.25 riprendiamo con qualche esempio pratico e concreto allora partiamo quindi da da un esempio concreto prendiamo l'istituto superiore di sanità e proviamo a vedere alcuni esempi di diagrammi che sono mostrati da su questo su questo su questo sito relativi all'emergenza Covid qui abbiamo ad esempio consulta dati abbiamo la consultazione dati epidemiologici ok allora qui potete scaricare un file Excel se volete vi metto direttamente il link qui da qui possiamo provare a iniziare a fare qualche esempio concreto di visualizzazione di analisi subito dopo vediamo i dati che sono riportati qua sotto che sono sommato dei dati abbastanza sintetici casi negli ultimi 30 giorni casi tra gli operatori sanitari età mediana dei casi percentuali per genere deceduti negli ultimi 30 giorni e guariti negli ultimi 30 giorni se volete anche questa linea iniziale di numeri è una visualizzazione ok molto molto semplice però è anche questa allora dovresti vederlo allora il link il link di questa pagina qui che stiamo guardando adesso è questo e adesso poi vi rimando il link del file excel appena lo utilizziamo allora questa in alto è una visualizzazione ma tutto sommato molto molto semplice effettivamente l'uso di un semplice numero ovviamente con la descrizione sotto può essere un'ottima soluzione se non dobbiamo mettere tante informazioni ok se volete possiamo iniziare a vedere questi che che idea vi danno vi sembrano corretti potrebbero essere migliorati avete qualche commento particolare io stavo per iniziare i commenti io ma vorrei sentire se ne avete voi qualcuno se c'è qualche cosa che vi sembra fatto bene o fatto male quindi sia in positivo che in negativo ok se volete posso anche o se preferite potete anche eventualmente parlare allora le spiegazioni degli asterischi non sono subito visibili ok questi asterischi qua che sono di dettaglio non sono visibili qua sono qui sotto al 15 gennaio la dashboard conterrà anche i casi diagnosticati solo col tampone antigenico eccetera eccetera ok quindi sì è vero quindi non si capisce bene il riferimento dobbiamo andare a scorrere quindi effettivamente potrebbe essere un limite allora per i casi positivi potrebbe essere utile anche il numero di tamponi perché è interessante avere l'indice di positività ottima considerazione effettivamente qui ci sono i valori assoluti ok non ci sono i numeri relativi anche qui sotto che poi sono dati un pochettino più specifici abbiamo dei valori che sono valori assoluti e quindi non c'è il rapporto rispetto ai tamponi se volete i casi per 100.000 abitanti che sono qua sono più facilmente compressibili rispetto al numero assoluto di casi mi aggancio a quest'ultimo commento per dirvi che allora come effettivamente osservavi che il numero assoluto senza il numero di tamponi è poco significativo un'altra osservazione si possono avere i dati iniziali e quelli cumulativi sì allora questo negli ultimi 30 giorni quindi in realtà è già una finestra come fosse un dato finale però effettivamente un aspetto che qui non c'è è ok negli ultimi 30 giorni ho avuto 431.000 casi ma nei 30 giorni precedenti quanti casi ho avuto ok il numero 400.000 è tanto ok ma lo sappiamo ma il punto è se io fossi tornato adesso da un viaggio su Marte e quindi mi dicessero ci sono 430.000 casi dico accipicchia è tanto ma un mese fa com'era stiamo andando meglio stiamo andando peggio quindi se volete in questi numeri manca un po' di contesto può essere il numero di tamponi può essere il valore nell'intervallo precedente per cui è un po' limitato e questo vale sostanzialmente per questi primi tre numeri ok casi assoluti tra gli operatori anche l'età mediana non so se sia alta o bassa i colori qui effettivamente sono assolutamente inutili ok van di moda ma di nuovo tornando al discorso che facciamo qualche minuto fa lì i colori non servono a niente allora se volete qui un utilizzo dei colori è dovuto al fatto che mi serve a distinguere un indicatore dall'altro però poi sono inutili quei colori avrei potuto utilizzare due diversi colori di grigio grigio più chiaro e grigio più scuro l'avrei identificati e comunque avrei mantenuto separati queste aree ok quindi sì i colori sono inutili un aspetto ecco questo indicatore qua 50% e 50% questo potrebbe essere significativo nel senso che so che abbiamo 50% di uomini e donne sono due categorie il 50% mi dice mi dà un'idea della distribuzione ok sugli anni no nel senso che io non so in generale come andavamo prima come vanno gli altri anni le altre età scendiamo sotto e intanto andiamo a vedere gli altri allora grafico a barre verticali si vuole far vedere la curva epidemica quindi forse sarebbe un grafico a punteline allora sì è vero il grosso limite è che come vedete qui ho i dati che vanno avanti e ho un calo in corrispondenza di domenica vedete che il 14 il 21 il 28 il 7 erano tutte domeniche e quindi queste barre sostanzialmente attenuano un po' il fatto che io abbia una serie di cali quindi vedo i blocchetti e posso andare a vedere questa sequenza di barre quest'altra questi qua e questi qua ignorando quelle che vanno in giù se io invece vado a mettere punti e linee il problema è che vanno su e giù molto e quindi sono più difficili da seguire ho questa discontinuità però l'osservazione è giusta nel senso che quando voglio vedere un andamento tendenzialmente devo utilizzare una delle linee o eventualmente dei punti è il motivo per cui molto spesso invece di far vedere i dati così nudi e crudi si utilizzano delle medie mobili scusate ci torniamo appena mettiamo le mani sui dati così facciamo un minimo di 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 analisi allora poi leggevo le etichette in verticale sì le etichette in verticale danno un po' fastidio anche perché comunque allora la data 2021 in questo caso è assolutamente inutile ok si poteva effettivamente fare un po' meglio poi aspettate che mi sta scorrendo la chat e non riesco a leggere tutto allora sulla cartina arriviamo un attimo dopo allora il dato inizio sintomi potrebbe essere meno utile però sostanzialmente mi dà il momento in cui effettivamente inizia la sintomatologia il problema dell'inizio sintomi è che se andiamo a vedere qui vedete che negli ultimi giorni sono calati tantissimo e voi direte vabbè ma allora vuol dire che ne siamo fuori e no perché sostanzialmente questo dato qui o quest'altro qui sotto che è ancora più piccolo del 10 sostanzialmente è legato a chi in qualche modo è stato intercettato da un qualche da un ospedale o da un medico e il medico ha riportato che i sintomi sono iniziati so un giorno prima due giorni prima una settimana prima l'inizio dei miei sintomi probabilmente non vado immediatamente al medico a meno che non siano molto gravi quindi questa informazione è molto ritardata quindi vedete che io ho un calo netto perché sostanzialmente i sintomi sono registrati con un certo ritardo che non è fisso tra l'altro per cui più vado vicino alla data odierna meno ho informazioni accurate perché chi ha avuto l'inizio di sintomi ieri probabilmente non è ancora stato registrato quindi mi ritrovo ad avere delle barre queste qui che non sono assolutamente confrontabili con queste ok quindi sostanzialmente perché proprio per il meccanismo che stanno a misurare dietro non ho la possibilità di confrontarle quindi vedete che tra l'altro qui adesso torno un attimo aspettate che non mi ritrovo più il ok torno qua i dati riportati negli ultimi quadri grigi deve essere considerato provvisorio sia per possibilità che di diagnosi quindi vedete che da qui vedete che c'è un po' di grigio qua quindi da qui in avanti i dati sono provvisori per inizio sintomi e la data prelievo anche qui in quest'ultima settimana è da considerare provvisoria ok per cui intuitivamente vedo un calo ma se poi vado a leggere bene capisco che i dati da qui in avanti in realtà non possono essere confrontati con quelli prima perché ci sono dei ritardi e quindi quelli prima sono sostanzialmente consolidati e questi no ok non si capisce se i sintomi sono stati registrati prima o dopo la diagnosi ragionevolmente l'idea è che nel momento in cui la diagnosi e quindi so che è un caso covid allora vado a inserire i dati di inizio sintomi se io arrivo se io sono un medico e arriva un paziente mi dice che ha i sintomi io cosa faccio lo mando a fare un tampone dopo un certo ritardo arrivano i dati gli esiti del tampone io medico vedo che ci sono i che è positivo a questo punto chiedo al paziente quando ha iniziato ad avere i sintomi e a questo punto con un ritardo di un po' di giorni vado a mettere i dati quindi capite che quei dati lì sono molto molto approssimativi le due serie non andrebbero mostrate nella stessa visualizzazione questo non lo so diciamo che comunque i valori mostrati sono gli stessi ok per cui no potrebbero anche essere è chiaro che un po' confonde perché questi qua sono i dati di casi ok per che hanno avuto un prelievo in questi giorni mentre invece l'inizio di sintomi ovviamente potrebbe essere un po' prima rappresentano due cose leggermente diverse però sono comunque il numero di casi quindi potrebbe anche ci sta anche che siano messi tutti lì adesso non mi soffermo più di tanto perché così facciamo una 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 panoramica un po' di insieme su tutto poi ovviamente se avete qualche osservazione particolare scrivetela pure su su slack eventualmente ne discutiamo lì da la mappa allora sì ci dà una varia idea adesso se se andiamo a a focalizzarci qua un pochettino di più vedete che qui abbiamo allora se togliamo questi vedete che abbiamo questi arancioni che sono i casi per provincia mentre invece questi in blu sono i casi per 100.000 abitanti infine quelli in arancione sono casi per casi totali vedete che qua abbiamo non posso me lo fa vedere regione Piemonte ecco qua 31.000 casi se vado a mettere tolgo il blu mi dice che in regione Piemonte ho 6.000 casi ogni 100.000 quindi se io vado a mettere tutte e due vedete che ho questa corona circolare che è poco indicativa allora il caso della valle d'Aosta che è molto piccola in cui ho un numero piccolo di casi totali rispetto alle altre regioni però l'azzurro è molto grande perché 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 la popolazione l'area è molto piccola quindi anche con un valore piccolo vuol dire che l'incidenza per 100.000 persone è molto alta ecco andare a rappresentare questi doppi casi cioè questa doppia misura allora uno è una proporzione ok l'altro è un valore assoluto e ovviamente posso andare a confrontare vagamente questi casi quindi casi per 100.000 abitanti i valori assoluti non li posso confrontare perché come vedevamo prima la differenza tra il Piemonte e la valle d'Aosta è molto significativa andiamo a prendere anche regioni piccole qui il Molise è piccolo quindi di nuovo ho un numero di casi molto piccolo ma l'incidenza è relativamente alta ok quindi è un po' forviante e graficamente mi ritrovo con queste due cerchi uno sopra l'altro si confonde molto effettivamente la dimensione dei cerchi mi dà il numero di casi adesso scusate zoom un attimo su qui zona nord-ovest allora no non i casi per 100.000 ma i casi totali vedete che qui ho 31.000 in Lombardia ne ho 91.000 ok tre volte tanto non l'avrei detto a occhio mentre invece qui 31.000 e qua ne ho 300 onestamente direi che non c'è proporzionalità assolutamente no perché se quello è un numero di casi sembrano tutti molto molto simili se vado a vedere il blu qui abbiamo 6.500 e qui ne abbiamo 6.000 tra 100.000 quindi questo teoricamente dovrebbe essere più grande di questo assolutamente non proporzionale ok sbagliato geometricamente sbagliato a parte i problemi di percezione con i due cerchi uno sopra l'altro e quei due cerchi dovrebbe essere come dimensione inversa osservazione probabilmente non ci stava l'anno ristretto per farlo stare nella valle d'Aosta può darsi sì però ad esempio vabbè qui sulla Liguria effettivamente non sono potuti andare in mare e quindi c'era più spazio sì non lo so qual è il motivo però sta di fatto che se io vedo questo dico beh in valle d'Aosta come incidenza di casi stanno decisamente meglio che in Piemonte invece no ok stiamo parlando di vediamo se me li fa vedere tutte e due no 6.000 contro 6.500 Piemonte e Lombardia Piemonte siamo a 6.500 come incidenza di casi e qui siamo a 6.400 ok leggermente più piccolo a occhio non direi sembrano identici ecco qua su Bolzano adesso a parte il problema di 1.02 e più 0.4 ok sono 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 10.000 quindi è il doppio rispetto a questi di nuovo non parrebbe osserva allora scusate adesso torno in chat la presenza di autostrade in rosso confini marittimi eccetera no non aiutano assolutamente in effetti voglio dire è per noi italiani quindi cioè se anche non andiamo a vedere che c'è l'autostrada Torino Alessandra Piacenza riusciamo a a trovare le varie posizioni quindi di nuovo tendenzialmente è meglio rappresentare soltanto l'Italia sicuramente tra l'altro non so bene dove viene pescato questa cartina ok non è il massimo anzi alcuni aspetti sono decisamente sbagliati su questo su questa visualizzazione ok secondo me i cerchi non variano le dimensioni in base ai casi ok non variano le dimensioni rispetto ai casi però sono un po' diversi non sono tutti uguali c'è qualche piccola differenza e a questo punto di nuovo in base a cosa variano sono semplicemente le decorazioni non non cioè è ingannevole come visualizzazione confini delle regioni potrebbero essere utili sì dovendo fare questo diagramma io avrei fatto una 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 rappresentazione con una cartina non fisica come questa ma magari politica con i confini delle regioni non avrei messo tutto ciò che sta fuori dall'Italia non avrei messo le le autostrade avrei messo ragionevolmente le province ma nulla di più i nomi delle città potrebbero essere inutili però attenzione che io ho tolto questi che sono i casi per provincia messe un po' a caso nel senso che la provincia di Torino io l'avrei vista su Torino mentre invece è messa qua Genova è qua La Spezia Savona Cuneo l'avrei messo proprio sulla città e quindi potrebbero essere utili i nomi delle province perché ho anche i dati a livello di province sembrano tutti uguali di nuovo però a questo punto non capisco il criterio della visualizzazione perché se il pallino rappresenta semplicemente la provincia allora mettimelo sul capoluogo e fallo più piccolo ok vedete che sembrano proprio tutti uguali quindi non è una rappresentazione grafica ok sì esattamente il commento che l'ultimo commento è perché ci sono anche i dati per provincia esattamente sì per evitare leggo la chat una possibilità sarebbe stata quella di cliccare sul nome della provincia per i casi provinciali sicuramente perché questi qua cioè se io rimetto tutto quello che c'era all'inizio è un pasticcio ok e quindi vi faccio notare che io l'ho presa veramente a caso ok perché l'altro giorno non mi ricordo perché qualcuno mi parlava di questi dati dell'istituto superiore della sanità quindi io non avevo guardato questi grafici però in generale andando in giro si trovano un sacco di casi proprio anche aprendo un giornale a caso ok quindi vedete che ci sono tanti aspetti che possiamo andare a migliorare allora scorro un attimo giù perché ce ne sono altri allora ecco qui questo do not non è il massimo abbiamo qui le percentuali che sarebbe molto meglio mettere qua il grosso vantaggio è che questo è interattivo quindi io col cursore vado sopra e vedo le fasce d'età ok il punto è che devo andare col cursore sopra e ne vedo una per volta e quindi di nuovo è un po' un limite ok il fatto che quella classe d'età che quella corrisponde a una specifica classe d'età lo vorrei vedere subito al limite andando sopra mi interessa questa informazione aggiuntiva cioè il numero assoluto di caso il concetto della visualizzazione interattiva è che dovrei poterla comprendere a livello generale senza nessun aiuto senza nessuna interazione e poi posso usare l'interazione per esplorarla ulteriormente e avere informazioni aggiuntive meglio con etichette più che con interazioni sicuramente sì allora l'interazione non va male mi può dare qualche informazione in più come dicevo ad esempio i casi in numero assoluto però senza l'etichetta così io devo andare a leggere questi quindi questo è 0,18 poi abbiamo 70,51 e diciamo tra l'altro è un ordine a cavolo ok usando un termine tecnico nel senso che io mi aspetterei di avere un ordinamento normalmente l'ordinamento è orario in questo caso forse è anti-orario però parte di qua normalmente se io ho una serie di categorie messe su una circonferenza parto dall'alto e vado in senso orario ok di nuovo come il tempo va da sinistra a destra per convenzione anche su una cosa circolare vado in senso orario quindi il primo è da qui questa categoria 0,18 mi va bene la seconda categoria dovrebbe essere 19,50 ok ha senso che io vada con le categorie di età crescente e quindi qui dovrei avere questo blu qua qui sotto quindi invece mi trovo prima categoria seconda categoria terza categoria qua e quarta categoria e quindi è in senso anti-orario controintuitivo e non inizia dalla parte da in alto ma inizia di qua da qui a girare fino qua quindi un po' poco intuitivo di nuovo tra l'altro non avendo le etichette io mi immagino che questi qua sono i più giovani e vado con quelli più anziani quindi qui così se io non faccio attenzione alle etichette mi aspetterei che questo 43% sia della fascia d'età più anziana e invece no è la fascia seconda quindi da 19,50 altro aspetto diciamo così poco ragionevole è che 0,18 per l'appunto sono 18 anni 19,50 è un intervallo di 31 anni 51,70 è un intervallo di 19 anni quindi 18,31 19 maggiore di 70 vabbè ci sta perché comunque non tendo a mettere un'età massima però diciamo che gli ultranovantenni percentualmente in Italia sono relativamente pochi e quindi di nuovo questo qua è una ventina d'anni quindi se volete è ovvio che questa qua sia più grande perché è un intervallo di età che è il 50% più grande degli altri tra l'altro l'intervallo di l'intervallo di di età con la maggior parte della popolazione quindi è più ampio come fascia d'età ed è molto più ampio come popolazione che ha quell'età lì quindi di nuovo non non ha molto senso ok è come se io facessi una 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 statistica al tra gli studenti del Politecnico e vado a contare studenti maschi e femmine che hanno preso un voto di laurea pari a almeno a 110 ora visto che le studentesse al Politecnico sono meno in alcuni corsi decisamente meno degli studenti è ovvio che la percentuale di studentesse che ha preso 110 è decisamente inferiore ma perché sono molto meno come in valore assoluto quindi è ovvio che sono di meno e qui di nuovo se io vado a vedere il numero di persone in una certa fascia d'età è ovvio che sono molto di più perché la fascia è più ampia ed è molto più popolata allora hanno diviso in età scolare adulta e anziani allora l'età scolare sì diciamo che finisce intorno ai 18 anni adulti però non li farei finire ai 50 anni tendenzialmente l'età della pensione è 60 65 quindi volendo mettere gli adulti avrei messo quella fascia d'età e non avrei messo il 1950 e il 51 70 perché di nuovo non hanno molto senso quindi potrebbe aver senso se fosse fatto in quel modo però non mi torna come come numeri ok quindi uno o delle percentuali che fanno riferimento a gruppi di popolazioni molto diverse per frequenza e per ampiezza delle fasce d'età non ho delle etichette e quindi faccio fatica a leggerlo e l'ordine con cui sono messe le varie corone di questo di questo dunat non è lo stesso che trovo nella lo stesso che mi aspetto ragionevolmente che va per fascia d'età e che mi aspetto sia per in ordine orario quindi seguendo l'orientamento orario partendo dal primo quindi età più giovane andando al più anziano quindi di nuovo un po' di problemi oltre al fatto che questo tipo di visualizzazione non facilita il confronto se voi andate a prendere 17 e 26 sono un po' diversi ma non tantissimo e se andate a vendere 17 e 12 il 12 non mi sembra tanto più piccolo il 17 è una mia percezione però in generale l'abbiamo visto la percezione degli angoli delle are è di solito un po' alterata però questo amonte come si è realizzato il grafico ultimo grafico questo qui di destra ecco qui sarebbe stato utile avere un po' di interazione perché abbiamo le varie fasce d'età ecco qui a questo punto sono anche qui 2 6 7 19 vabbè qui è sotto l'età scolare e poi da 7 in avanti tendenzialmente l'età scolare le dimensioni di ogni colore si si poteva avere delle barre delle barre orizzontali allora attenzione qui avendo 5 livelli il colore l'importante è che sia diverso ok quindi ci può ancora stare qual colore il colore non ha una semantica particolare se non il fatto di essere abbastanza diverso dagli altri quindi l'assegnare un particolare colore a un certo gruppo è relativamente poco importante poi evidentemente qui hanno scelto il verde da un lato e il rosso dall'altro quindi di nuovo hanno usato la solita semantica del verde tranquillo e rosso caldo avrei potuto andare a fare un raggruppamento diverso sì sicuramente avrei voluto farlo commento risulta più facile capire le percentuali nelle stazioni più più difficile capire le percentuali nelle regioni nelle stazioni più alte mentre l'unica percentuale facilmente leggibile è quella degli asintomatici esattamente questa è la prima cosa che mi è venuta in mente a me non interessa sapere quanti sono gli asintomatici e qui lo leggiamo bene di qua di qua un po' meno ma mi interessa sapere chi sono severi e critici e qui è abbastanza difficile ok non c'è neanche la scala di qua per cui il allora qui una griglia che fosse visibile bene e magari un po' più fitta sarebbe stata molto utile perché non riesco a leggere le le percentuali ecco l'interattività che ho di qua l'avrei apprezzata molto più di qua in cui sì che avrei potuto avere l'informazione le barre bisogna valutare la differenza oppure ognuna parte da zero no no le barre in questo caso sono impilate ok quindi la barra blu non parte da zero ma parte da qui circa 50 quindi negli over 90 il 50% è asintomatico poi abbiamo questa percentuale qui che a occhio sarà un 10% però veramente ad occhio e poi un alto 15% di lievi e poi il restante 20% bo di severo quindi queste sono barre impilate staked volendo confrontare i sintomi lievi dei 70 79 con i 2,6 è difficile sì di nuovo allora tendenzialmente è difficile fare tutti i possibili confronti non avendo le righe quindi difficilmente riuscito a quantificare quella percentuale e non avendo neanche l'aiuto dell'interattività ha maggior ragione sì sarebbe stato avere una linea tratteggiata sì avrei potuto avere una griglia magari sopra qualche altra soluzione però sicuramente avrei potuto sicuramente trovare altre soluzioni sarebbe stato meglio utilizzare grafici multipli invece delle barre impilate sì a volte può essere una soluzione va bene diciamo che l'aspetto positivo della barra impilata è che io posso guardare la singola barra e vedo un po' distribuzione all'interno della barra se invece ho non so un grafico con tutti gli asintomatici un grafico con tutti i pauchi sintomatici lievi eccetera a questo punto per singola fascia d'età è un pochettino più difficile effettivamente andare a fare il confronto mettere tutto in un grafico unico mi dà questo vantaggio però poi devo dare tutti i supporti per poter andare a leggere bene le barre che non sono quelle le prime in basso che sono quelle di cui per costruzione di questo tipo di grafico è decisamente più facile leggere il valore sì di nuovo non non andrei a diciamo condannare la scelta del tipo di grafico del tutto si potrebbe provare a fare delle barre grafici multipli e vedere come vengono il problema è che però la realizzazione specifica non è ideale non ci consente di leggere tutti i dettagli allora domanda i dati potrebbero essere alterati dal fatto che è difficile trovare gli asintomatici proprio perché non hanno ragione di fare un tampone allora qui in realtà il problema è ancora monte sì non è detto che le misure che io ho qui a disposizione siano corrette quindi non ricordo dove c'era qualcuno che stimava che il il contagi fossero tra due cinque volte più di quelli che risultavano dalle dalle statistiche proprio per il fatto che se io sono asintomatico non faccio tampone non so mai di essere di essere stato malato e quindi ragionevolmente non compaio in prima statistica ok però è un problema di diciamo attendibilità dei dati di correttezza delle misure quindi dividiamo i due problemi questo sicuramente è un problema una volta che noi diciamo accettiamo i dati e quindi ipotizziamo che siano corretti a questo punto qual è il modo migliore di visualizzarli però ovviamente se ho dei dati limitati allora alcuni limiti qua sono evidenziati come dicevamo del numero della data di inizio sintomi che per due settimane io non ho un dato corretto anche qui potrebbe essere alterato non registrato correttamente ma per due settimane da all'indietro da oggi ho dei dati che non sono ancora stabili e quindi non li posso confrontare con quelli delle settimane ancora prima quindi capite che è un po' è un po' aleatorio però se noi diamo per scontato che i dati siano corretti pur con qualche limite resta il problema di come viene fatta la visualizzazione che se volete è il punto principale del nostro corso allora domanda si può scegliere di mettere delle etichette su ogni intervallo con la percentuale tralasciando gli intervalli più in alto nel senso che sono troppo piccoli sì questa potrebbe essere sicuramente una strategia io quando prima dicevo che mi manca una un'interattività e mi piacerebbe che mandando sopra vedessi queste informazioni quelle che esattamente quelle che dici tu esattamente come le vedo di qua sul diagramma sul donut le etichette allora le etichette io non devo mettere per forza dappertutto è una mia scelta potrei mettere soltanto alcune altre potrei andare a mostrarle semplicemente quando vado sopra in maniera interattiva non c'è una linea guida assoluta posso io scegliere di mettere le etichette dove mi pare importante ok allora avete capito più o meno il criterio quindi abbiamo discusso di tanti aspetti alcune cose me le avete le avete trovate voi immediatamente altre magari ve le suggerite io ecco questo è l'operazione che bisogna fare a pratica da un grafico cioè analizzare in maniera critica per capire quali sono i limiti ok e tutto quello che abbiamo visto finora se volete era un po' teorico un po' noioso però erano le basi per riuscire a fare questo tipo di considerazioni e ovviamente sono le basi per poi andare a costruire i grafici in maniera corretta a questo punto prendiamo il file excel che c'è qua su in cima questo qua l'xls vi metto vi metto il link direttamente qua in chat così ce l'avete e proviamo a vedere un attimo come è fatto questo file così giusto per dare un'occhiata a dei dati potete poi prenderlo come un esempio per fare qualche esercizio magari nelle prossime settimane qualche esercizietto in più lo faremo potremmo partire tranquillamente da questo da questo file o eventualmente da suoi successivi successivi aggiornamenti e vedere come possiamo utilizzare dati così pubblici e partire da quello e andare a fare un po' di analisi un po' di un po' di visualizzazione a questo punto vi cambio la condivisione dello schermo questo qua vedete il file excel immagino che abbiate avuto anche modo di aprirlo voi per conto vostro allora i dati sono qui ma sono anche in altri posti quindi la notte metodologica magari la leggete con calma sono le 6 in quarto eviterei di fare una pausa adesso andiamo avanti ancora una ventina di minuti 20-30 minuti al massimo e finiamo finiamo decisamente prima però visto che stiamo ragionando su queste cose andrei a a proseguire e non fare pausa adesso allora i contenuti va bene mi dice cosa c'è nei vari nei vari nei vari file mi dice in particolare cosa cosa sono aspettate che allargo un po' perché altrimenti non si legge il foglio il contenuto e le variabili che sono che sono presenti se notate in tutti i fogli è presente questa variabile iss date che è la data di aggiornamento del dato che è quindi un qualcosa che sarà uguale per tutte le per tutti i fogli ok casi casi allora dati aggiornati allora vado sul foglio casi prelievi casi prelievo diagnosi che è sostanzialmente il primo diagramma barre quello che abbiamo visto e vediamo iss date e la data di aggiornamento ok questi dati sono aggiornati al 10 aprile scusate 10 marzo questa è la data di prelievo o diagnosi e vedete che i dati iniziano dal 29 gennaio 2020 6 febbraio 20 21 22 23 ok i primi due sono veramente poco utili nel senso che sono 29 gennaio e 6 6 febbraio ok evidentemente perché ci sono dei dati di prelievi fatti il 29 gennaio dell'anno scorso e 6 febbraio che quindi rientrano le statistiche poi dal 29 gennaio al 6 febbraio non c'è stato nulla come pure dal 6 febbraio al 20 febbraio ok quindi sono dati veramente un po' interessanti allora quello che possiamo fare è operazione proprio brutale su Excel questi dati qua tra l'altro vedete che c'è scritto minore di 5 sono messi così perché normalmente per problemi di riservatezza di privacy sostanzialmente quando ho dei numeri molto bassi non li riporto perché immaginate che lì ci sia uno vuol dire che un caso il 29 gennaio mi permette di andare recuperare l'informazione magari da altri canali ok quindi tendenzialmente quando ho problemi di privacy e ovviamente i dati sanitari sono fortemente personali tendo a omettere queste informazioni quando sono minori di un certo numero 5 è un criterio che di solito viene utilizzato ok quindi questi dati qua sono veramente poco utili quindi non ne andiamo a considerarli tra l'altro minore di 5 è un valore che Excel non è in grado di visualizzare ok perché è minore di 5 cos'è 0 1 2 3 4 ok o mettiamo noi al posto un valore ipotetico oppure non lo visualizziamo andiamo quindi a selezionare le due colonne la data e i casi ok sto selezionando tutto fino qui siamo ottobre eccoci qua al 10 3 tra l'altro qui ci sono ecco vedete qua c'è un esempio un errore di dati ho 21 e poi ho 3401 che però non fa riferimento a nessuna data ok quindi mi fermo prima mi fermo al 9 dove dati sembrano essere ragionevoli ok excel cosa faccio allora l'interfaccia che vedete qua è excel per mac che è leggermente diversa dall'interfaccia di excel per per window però sono abbastanza simili quindi non credo che questo sia un problema quello che posso andare a fare è mettere un insert e poi vado a scegliere il grafico posso scegliere uno dei grafici raccomandati da excel in questo caso non me ne da nessuno oppure posso andare a scegliere il tipo di grafico diciamo che andiamo a mettere un grafico a linee non metto i punti perché sono così tanti vedete che sono 387 sono 384 linee 384 righe del file excel quindi se mettessi i punti ho una nuvola difficilmente leggibile vado a utilizzare semplicemente le righe non so che cosa mi ha fatto excel però non mi ha fatto quello che io volevo ok provo a farlo di nuovo le gramma linee no allora vado a selezionare i dati direttamente quindi tolgo questo cosa vado ad aggiungere una nuova serie che posso chiamare diagnosi i valori y sono questi scusate questi allora vediamo se riusciamo a farlo prima della fine della lezione allora siamo a novembre dicembre e ok quindi prendiamo tutti questi valori quindi casi prelievi diagnosi c5 c387 ok le etichette sull'asse x invece sono b5 b387 ok ok esatto allora perché non vedo nulla perché vedete che ho una linea piatta qua allo zero il motivo è che se andate a vedere questi numeri questi numeri this number the number in this cell is formatted as a text ok quindi vuol dire che essendo formatato come testo per excel quello è uno zero sapete perché è formatato come un testo perché qua sopra c'era un d minore d che ovviamente è testo quindi shift ctrl freccia verso il basso seleziono tutto vado qui clicco su questa freccetta e convert to number eccoci qua eccoci qua ok adesso questo è il grafico questo è la prima ondata questa è la seconda c'è stato un picco qua ottobre e poi questa è la famosa terza ondata allora quello che potete fare scusate per convertire in numero selezionate tutto vi compare il allora ve lo faccio vedere su un nuovo foglio perché qui non riesco a farlo allora se io metto ad esempio 3 5 7 vedete che questo qua mi dice questo numero è formatato come testo quello che posso fare è cliccare dopo aver selezionato tutta la colonna su questa freccettina di fianco al triangolo di warning e converte in numero ok questa è la versione inglese di excel ma converte in numero credo che sia la traduzione in italiano quindi converte in numero e me lo porta in numero e ottengo sostanzialmente questo cosa fa excel mi fa una visualizzazione di una serie di date che cosa posso fare per evitare di vedere questa serie di date messe così quello che potrei fare è andare ad aprire il formato del testo no scusate qui ecco qua il numero e qui posso andare a mettere come formato scegliere custom e mettere ad esempio mmm trattino y vediamo se funziona allora no non mi funziona non so come mai allora quello che potete fare è creare un grafico e poi andare a scegliere allora torno un attimo qua per la creazione del grafico voi inserite un grafico dopodiché una volta che avete selezionato il grafico potete fare select data se avete qui una serie potete correggere altrimenti potete aggiungere una nuova serie e andate a mettere come valori Y sostanzialmente la colonna B da B5 a B387 ok adesso vi faccio vedere non qui ma no scusate mi è saltato la allora selezionate il diagramma nell'opzione design del grafico no select data e qui andate a mettere dopo se io muovo il corsore me lo fa vedere quindi io non riesco comunque la colonna è B la colonna è la B le celle sono dal 5 a 387 scusate C perché questi sono i valori Y e poi nella categoria X B5 B387 l'osservazione che leggo è i dati della domenica rovinano la percezione dell'effetto in andamento sì perché effettivamente la domenica o questi la domenica il weekend ho questi questi valori che vanno direttamente giù è il motivo per cui molto spesso invece di quello che vedete nei dati che vedete rappresentati invece di avere una rappresentazione puntuale come questa o quelle che si vengono chiamate le medie mobili lo riduco un po' così lo riusciamo a vedere un po' meglio cosa vuol dire? vuol dire che posso fare una media su quanti giorni? 3 giorni? 5 giorni? 7 giorni? vediamo una media su 3 giorni media mobile 3 giorni vuol dire che io vado a fare uguale min scusate in inglese average in italiano è media di 3 giorni così e quindi invece di essere 36, 55, 75, 76 o 55 cosa faccio poi? prendo questo valore e lo copio in fondo scusatemi ma riduco così almeno faccio un po' prima quindi copio il valore trascinandolo verso il basso attenzione attenzione questo giochino qua poteste farlo tranquillamente andando a prendere non tutti i dati ma soltanto un po' un pezzo ok? ad esempio gli ultimi altra cosa che posso fare è la media mobile a 5 giorni o la media mobile a 7 giorni ovviamente se vado a 5 giorni devo fare uguale media o average in inglese di 1, 2, 3, 4 e 5 e la media a 7 giorni è uguale e average oppure media se avete la versione italiana 2, 3, 4, 5, 6 e 7 a questo punto esattamente come prima vado a riportare il dato qui giù ok? per cui quello che posso fare una volta che io ho il mio grafico e la mia serie di dati vedete che quando seleziono il grafico mi viene selezionata la colonna C in cui ci sono i dati Y se io vado a prendere questa colonna selezionata e sposto sulla media a 3 giorni vedete che ottengo un grafico che è leggermente meno a saltelli se la sposto ancora sulla media a 5 giorni ottengo un grafico che è ancora meno a saltelli se la sposto su 7 giorni vedete che ottengo un grafico che è molto più arrotondato perché la media a 7 giorni funziona? perché sostanzialmente il periodo con cui ho questi picchi è per appunto 7 giorni quindi se io prendo 7 giorni prendo i 5 giorni buoni più i 2 e quando mi sposto avanti di 1 ho sempre sui 5 giorni 2 che sono quelli deboli e gli altri normali ok? quindi in questo modo vedete che con la media mobile a 7 giorni l'andamento è decisamente diverso non sono i dati puntuali è una media di quei 7 giorni quindi il motivo sostanzialmente è che mi tolgo via quei picchi verso il basso e ho un valore che è un pochettino più facile da seguire no per come l'ho fatto per ogni data ci sono la media dei del giorno stesso più i 3 giorni precedenti e i 3 giorni successivi però cambia poco nel senso che la forma si sposta di 3 giorni quindi è esattamente la stessa se invece vado a prendere la media di quel giorno e dei 6 precedenti tanto il dato di quel giorno non è preciso perché è sporcato da quelli che stanno attorno prendere soltanto quelli precedenti o un po' precedenti un po' successivi non cambia molto ok quello che vedo è che comunque l'andamento è quello cambierebbe leggermente la data qui sotto di 3 giorni per il resto non ho grosse variazioni vado a prendere un altro foglio così poi giusto per farvi un paio di esempi l'altro foglio è questo qua i casi regioni dove vedete che ho le regioni più provincia autonoma di nuovo in grandissimo così riuscite a vedere meglio se guardate lo schermo vedete che qui ho di nuovo il problema dei valori memorizzati come testo allora vi rifaccio il giochino di prima io seleziono tutta la colonna se vado qui mi compare la descrizione del problema i dati sono memorizzati come testo se vado a cliccare su questa frecciolina nera triangolino nero di fianco ho la possibilità di convertire in numero quindi converto in numero e automaticamente ho i dati a questo punto come al solito la prima colonna ci interessa poco perché ci dice la data di aggiornamento di quel dato sono sempre il 10 di marzo quello che mi interessa è il nome della regione o provincia autonoma e il valore di casi cumulativi qui di nuovo inserisci grafico possiamo andare a mettere un grafico ad esempio di barri orizzontali metto barri orizzontali perché vedete che i nomi delle province e delle regioni autonome possono essere molto lunghi e quindi mi conviene avere scritti orizzontali piuttosto che in verticale quindi metto le barre e a questo punto ho il mio diagramma che è quello che vedete qua ingrandisco così si legge un po' tutto allungo un po' qua ok vedete che ovviamente ho delle differenze molto significative vi faccio notare un altro dettaglio quello che normalmente avviene è che il primo elemento che è quello vicino all'asse in basso è il primo che trovo qua in alto ok quindi sono ordinati in maniera inversa secondo aspetto questo problema io lo posso risolvere in maniera molto veloce scusatemi andando qui sulla sull'asse facendo un doppio clic mi si apre la scelta e posso andare a scegliere di mettere le categorie in ordine inverso e quindi cliccando qui ottengo l'abruzzo che è il primo in ordine alfabetico qua su e il veneto in fondo un altro aspetto è che così ho le regioni in ordine alfabetico però faccio difficoltà a fare dei confronti significativi per cui potrebbe essere molto più interessante andare a riportare le regioni non in ordine alfabetico ma bensì in ordine di numero di casi e quindi posso prendere posso selezionare questo dato andare a scegliere la voce dati e poi scegliere sort oppure ordina e quindi fare ordina per casi cumulativi dal più piccolo al più grande in questo caso la Lombardia se voglio l'ordine inverso posso fare dal più grande al più piccolo e quindi a Lombardia in alto ok se volete questo possiamo farlo anche come un grafico di tipo pareto quindi andare a calcolare la percentuale sul totale e andare a fare la percentuale cumulativa ok ve lo lascio eventualmente come esercizio da fare a casa come ho fatto l'ordinamento sì ve lo faccio rivedere subito ho selezionato tutti i dati in realtà non è necessario selezionare i dati perché basta posizionarsi qui in alto Excel automaticamente capisce che quella è una tabella di dati però se li selezionate siete sicuri che state facendo l'ordinamento di quei dati ho scelto poi dati o data non so la traduzione italiana e poi sort oppure ordina credo che sia in italiano una volta che ho scelto ordina ho detto ordina per e ho scelto la colonna cioè casi cumulativi quindi ho scelto di ordinare in base a la colonna con i casi cumulativi e poi ho scelto come ordinamento dal più grande al più piccolo oppure dal più piccolo al più grande a seconda dell'ordinamento che mi interessa ok direi che si è fatto tardi questa seconda parte della lezione è stata lunga è stata un po' interattiva però è stata decisamente lunga io chiuderei qui la lezione di oggi allora avete visto che avendo fatto un po' di teoria adesso a questo punto riusciamo a fare un po' di attività pratiche un pochettino più interessanti giovedì prossimo non ci sarà nessun riepilogo di teoria ma sarà laboratorio pure semplice ok utilizzerete Excel dovete fare analisi di grafici dovete fare una una rianalisi vi pubblico diciamo domani altre lezioni pre-registrate su argomenti che sono sostanzialmente la definizione di misure e un richiamo di statistica ok sulla statistica non ci tornerei ma dateci un'occhiata non ci tornerei nella lezione di lunedì nel senso che comunque dovrebbero essere concetti noti date un'occhiata in modo che se qualcosa non è chiaro al limite mi fate domande o vi rinfrescate la memoria direi che per oggi è fatta cercate di dare un'occhiata alle lezioni pre-registrate in vista della lezione di lunedì pomeriggio in cui parleremo un pochettino di misure quindi torneremo al problema che era saltato fuori prima del fatto di il dato sugli asintomatici è corretto oppure no probabilmente no ma perché dipende da come ho definito la misura e parleremo anche del tipo di misura ci sono misure di tipo diverso che ci portano a scegliere tipi di grafici diversi per rappresentarli in maniera corretta direi che per oggi è tutto se avete grafici che magari vi hanno colpito che volete commentare oppure grafici che costruite a partire da questo da questo foglio elettronico mettetevi pure su Slack eventualmente con i vostri commenti oppure chiedendo commenti così magari possiamo fare un po' di scambi di opinioni al di fuori delle elezioni buona serata a tutti buon weekend appena ci arrivate e noi ci rivediamo in diretta o in sincrono lunedì pomeriggio arrivederci a presto